L'occhio elettronico delle fototrappole non dà scampo e nel comune di Vibonati altre quattro persone sono state immortalate mentre gettavano spazzatura lungo le strade a danno dell'ambiente. A riferirlo è il comandante dei vigili urbani Antonio Quintieri. Si tratta di persone originarie di paesi limitrofi. Alcune di loro sono state individuate anche grazie alle proprie tracce lasciate a terra, bollette e conti correnti per esempio. Per tutti i furbetti dei rifiuti sono scattate le sanzioni pari a 500 euro ha detto Quintieri. Ovviamente andremo avanti con la videosorveglianza. E di oggi però un comunicato stampa di Italia Nostra Cilento Lucano in cui il presidente dell'associazione Teresa Rotella dichiara che l'area denominata Pietradame oramai da tempo viene scelta come zona di abbandono di rifiuti anche pericolosi o speciali come copertoni autodismessi, pezzi di cemento amianto, barattoli di vernici e prodotti infiammabili. Inoltre molti di questi risultano bruciati e pertanto sprigionano di ossina nell'ambiente. I rifiuti sono sparsi lungo la stradina asfaltata comunale che attraversa la località panoramica in questione dove sorgono tra la macchia mediterranea numerose ville private. E la loro presenza induce a pensare che probabilmente qualche muratore sia il responsabile dell'abbandono illecito. Quello che però preoccupa maggiormente, conclude Teresa Rotella, è la presenza di cumuli artificiali di terra rossa privi di vegetazione. Considerato che circolano molte voci incontrollate e che vi siano stati sepolti probabili materiali tossici, si chiede di controllare se tali presunte notizie siano fondate. Si tratta di terra da scavo, ha dichiarato il comandante Quintieri, ma non c'è nessun grave pericolo per la salute dei cittadini. Infine c'è da parte della Polizia Municipale l'intenzione di installare una torre faro che consenta di migliorare il servizio di contrasto all'abbandono scelerato di rifiuti sul territorio.